Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità a Valmelaina da domani e sino al 6 gennaio sono previsti lavori a via delle isole cursolane con delle chiusure al traffico e una deviazione per le linee di bus 90, 336, 338, 344 ed N90. Ancora da domani e sino a sabato nella fascia oraria 9, 30, 16, potature e chiusura al traffico su viale di Tor di Quinto nel tratto tra Corso Francia e la tangenziale. Ci sarà quindi una deviazione per il traffico privato e anche per la linea di bus 69.